Musica Cari ascoltatori, prima di tutto diamo il benvenuto dell'Islam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Il nostro sermone oggi porta il titolo Il Corano glorioso, un libro di misericordia per tutto il mondo Ma prima di tutto l'ode ad Allah, Signor dei Mondi Che dice nel suo glorioso libro Facciamo scendere nel Corano ciò che è guarigione e misericordia per i credenti E dice anche Questo è un libro benedetto che noi abbiamo fatto scendere Seguitolo, allora siate timorati di Allah Sicché possiate essere oggetto di misericordia E rendo testimonianza che non c'è altro Dio all'infuori di Allah E che Muhammad e il suo servo è messaggero Che la bacia e le benedizioni di Allah siano su di lui, sulla sua famiglia Sui suoi compagni e su coloro che seguono il loro percorso fino al giorno del giudizio finale Il Corano, cari ascoltatori, è il solido mezzo per avvicinarci ad Allah E' il miglior ammonimento, la luce e la retta via Che non può essere distorta, che non sarà mantenuta libera dalla minzogna Le studiosi non cesseranno mai di scoprire la sua meraviglia Non sarà mai superato E nessuno può comprendere tutta la sua saggezza Chi parlerà secondo i suoi segni sarà veritiero Chi agirà secondo la sua guida sarà ricompensato Chi giudicherà secondo le sue disposizioni sarà giusto E chi lo evocerà sarà guidato sulla retta via L'onipotente Allah dice nel Corano Che questo è in verità un Corano nobilissimo Contenuto in un libro costituito Che solo i puri toccano E' una rivelazione del Signore dei mondi Allah dice nel Corano anche Non lo tange la falsità in una delle sue parti E' una rivelazione da parte di un saggio degno di lode E' il glorioso Corano, cari ascoltatori E' un libro di misericordia Come dice l'onipotente Allah O uomini Vi è giunta un'esortazione da parte del vostro Signore Guareggione per ciò che è nei petti Guida e misericordia per i credenti Di loro che se è compiacciano Della grazia di Allah e della sua misericordia Che ciò è meglio di quello che accumulano Allah dice anche nel Corano Abbiamo fatto scendere su di te Il libro che spiegasse ogni cosa Guida e misericordia e lieta novella per i musulmani In un altro versetto Allah dice Facciamo loro giungere un libro E lo abbiamo spiegato nei particolari Che fosse guida e misericordia Per coloro che credono La parola misericordia, cari ascoltatori E i suoi derivati sono menzionati Più di 200 volte nel Corano E il Corano afferma che la misericordia È uno degli attributi di Allah Di questo Allah dice nel Corano La mia misericordia abbraccia ogni cosa Allah dice anche nel Corano ancora Il tuo Signore è colui che basta a se stesso È il detenutore della misericordia Allah dice anche La misericordia del tuo Signore è però di gran lunga Migliore di quello che accumulano Quando si contempla il Corano glorioso Ci si rende conto della grandezza Della misericordia di Allah L'Onipotente Allah ha creato il giorno e la notte Come misericordia per tutte le sue creature Affinché riposano di notte e lavorino di giorno in giorno Per ottenere sostenimento e sviluppare l'universo Allah fa scendere la pioggia come misericordia per i mondi Come dice l'Onipotente Allah È grazia alla sua misericordia Che stabilisce per voi la notte e il giorno Affinché possiate riposare e procurarvi la sua grazia E affinché li siate riconoscenti Allah ha anche detto Egli è colui che invia eventi, annunciatori e percussori della sua misericordia Quando poi recano una nuvola pesante La dirigiamo verso una terra morta E ne facciamo discendere l'acqua Con la quale suscitiamo ogni tipo di frutti Così resusciteremo i morti Forse rifletterete in proposito Cari ascoltatori Il glorioso Corano afferma che Allah ha fatto scendere i messaggeri E ha rivelato le scritture come misericordia per i mondi Come gloria a lui ha detto Odiciate se la scrittura fosse stata fatta scendere su di noi Saremmo stati meglio guidati da loro Ecco che dal vostro Signore vi sono giunte prove, guida e misericordia Allah si rivolse al suo profeta Muhammad dicendo Non ti mandammo se non come misericordia per il creato Allah dice Ora vi è giunto un messaggero scelto tra di voi Egli gravosa la pena che ha soffrite Brama il vostro bene E dolce e misericordioso verso i credenti Nel Corano, cari ascoltatori L'onipotente Allah chiama le persone ad avere speranza nella sua misericordia E nel perdono Mostrando che la sua misericordia è vicina ai giusti Come ha detto Dì, o miei servi che avete acciduto contro voi stessi Non disperate della misericordia di Allah Allah perdona tutti i peccati E in verità, Egli è il coordinatore e il misericordioso Ancora, cari ascoltatori Lode ad Allah, Signore dei mondi Che la bacia e la benedizione di Allah Siano su di Lui, sulla sua famiglia Sui suoi compagni, sui coiunque Segua la loro guida fino al giorno del giudizio finale Va di sé che un vero credente è colui Che adotta la morale del Corano Che Allah ha fatto scendere a misericordia per tutto il mondo E segue le maniere del profeta Che la bacia e la benedizione di Allah Siano su di Lui Che è stato inviato da Allah Con misericordia per l'umanità E il profeta Che la bacia e la benedizione di Allah Siano su di Lui Disse Il combassionevole ha misericordia di coloro che sono misericordiosi Se mostrerete misericordia a coloro che sono sulla terra Colui che è nei cieli Mostrerà misericordia a voi E il profeta Muhammad Disse Allah ha diviso la misericordia in cento parti Egli tenne con sé novantanove parti E ne fece scendere una sulla terra E a causa di quella singola parte Le sue creazioni sono misericordiosi l'una con l'altra Così che anche il cavallo femmina Solleva gli zoccoli dal suo animale bambino Per non calpistarlo Si dice che una volta un cammello vide Il profeta che la bacia e le benedizioni di Allah Siano su di Lui E pianse con un modo molto forte Producendo un suono anelito E gli occhi scorrevano E il profeta Muhammad venne ad esso E asciugò il tempio della sua testa Così ha mantenuto il silenzio Poi disse Chi è il padrone di questo cammello? Di chi è questo cammello? Un giovane dell'Ansar Venne e disse Questo è mio Disse Non temete Allah Reguardo a questo bestia Che Allah ha dato in vostro possesso Se hai lamentato con me Che lo tieni affamato E lo carichi pesantamente Con che lo affatica Quanto l'intera umanità Ha bisogno di seguire In maniera del glorioso Corano Il libro della misericordia E della bacia Vogliamo concludere Il nostro discorso Con due consigli Il primo è Rivolto al popolo del Corano E l'altro A tutti i saggi del mondo Diciamo Che il mondo intero Oppure Diciamo Diciamo Al popolo del Corano Abilisce il Corano Con la tua bella voce E lascia Che il mondo intero Lo ascolti O popolo del Corano Perfessionate Le vostre buone maniere Seguendo La morale del Corano Lascia Che la tua Risposta Alle ignoranti Che negano Lo status Del libro Del tuo signore Mostrando Più cura Per il Corano In termini Di recitazioni Studio Comprensione Applicazione E azione O nostro signore Ti chiediamo Di allontanare Tutti coloro Che vogliamo Danneggiare Il tuo Corano Libro O Allah Fa che le loro Trame Si rivoltino Contro di loro E vediamo Il tuo potere Su di loro Diciamo A tutti gli saggi Del mondo Che il mondo Non può Assistere A guerre Di religione Oltre Alle guerre Già in corso Quindi Brandete L'iniziativa Di rinunciare A tutti I tipi Di odio Religioso Prima che sia Troppo tardi Poiché L'estremismo Porta Al contro Estremismo E un piccato Permettere Al sciocco Di alimentare Tutti i sentimenti Di odio Religioso E distruggere La Convivenza Non ci dubbio Che tutti I musulmani Entusiasti Sono danneggiati Da qualsiasi abuso Contro il loro profeta O il libro Del suo signore Non importa Quanto i saggi Raggiungano La pazienza Può venire Il tempo In cui Perdonò Tale pazienza E l'intera questione Può trasformarsi In problemi Dostruttivi O Allah Ci benedica Con Il Corano Grazie Dall'ascolto